ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco fito gambe a cosa serve fito gambe a un parafarmaco appartenente alla categoria degli rinfrescanti tonificanti idratanti multifunzione gambe e piedi è commercializzato in italia dall'azienda vital factors italia srl informazioni commerciali titolare vital factors italia srl concessionario vital factors italia srl categoria di appartenenza rinfrescanti tonificanti idratanti multifunzione gambe e piedi confezioni fito gambe gel freddo 100 ml indicazioni lenisce i gonfiori causati da calura vita sedentaria posture costrette e prolungate ad esempio lunghi viaggi la linea fito gambe riattiva la circolazione soprattutto a livello degli arti inferiori aumenta la resistenza dei capillari e ne migliora le strutture elastiche favorisce il drenaggio linfatico al fine di evitare congestione e ristagno di liquidi riequilibrando la permeabilità vasale protegge le pareti vasali dall'azione dei radicali liberi svolge un'azione antinfiammatoria sostiene la riparazione tessutale sono prodotti consigliati soprattutto a chi ha soggetto a gonfiore e barra o pesantezza alle gambe a chi ha costretto a rimanere molte ore in piedi o seduto a chi fa lunghi viaggi in aereo in auto a chi ha in sovrappeso a chi presenta fragilità capillare uso tradizionale gonfiore e pesantezza alle gambe insufficienza venosa periferica fragilità capillare varici modalità d'uso applicare sulle gambe con un leggero massaggio dal basso verso l'alto descrizione e caratteristiche i componenti attivi della corteccia di mimosa sono saponine triterpeniche steroidee tannini e rutina le saponine hanno un'attività antiedematosa i tannini sono astringenti e favoriscono la guarigione e la rutina esercita le sue proprietà sulle pareti dei microvasi il mentolo e l'agave sesalana svolgono un'azione emolliente lenitiva lasciando una piacevole sensazione di freschezza i bioflavonoidi derivati dagli agrumi diminuiscono la permeabilità ed aumentano la resistenza della parete delle arteriole e delle venule il rusco pungitopo ricco di roscogenine resine ed olio essenziale ha proprietà antinfiammatorie venotoniche astringenti e protettrici vasali presenta anche proprietà diuretiche lenitive disarrossanti le saponine attivano i recettori più meno adrenergici migliorando il ritorno venolinfatico la vite rossa contiene fitoalessine resveratrolo procianidine ed antocianine molecole antiossidanti che bloccano la sintesi dell'anione superossido ha un'azione antinfiammatoria e tonica a livello delle arteriole e delle venule stimola i processi riparativi diminuisce la permeabilità capillare e ne aumenta la resistenza l'estratto di ippocastano contiene diverse saponine tra cui l'escina che favorisce il miglioramento della resistenza capillare ed una diminuzione delle micro emorragie e dei gonfiori attiva la circolazione favorisce il ritorno venoso ed inibisce la degradazione della vitamina c indispensabile per l'integrità dei capillari presenta anche proprietà astringenti ed antinfiammatorie soprattutto nella fase iniziale del processo avvertenze nickel tested componenti e ingredienti mentolo 5 per cento estratti di mimosa 4 per cento ipocastano 3 5 per cento rusco 3 5 per cento vite rossa 2 per cento complesso rinfrescante 1,5 per cento bioflavonoidi 0 5 per cento caffeina 0 1 per cento acqua al col denat mentol glicerina alcol ciclopentasiloxane menti lactate bispeg 18 metil eter di metilsilane mimosa tenuiflora leal f extract esculus ipocastanum bark extract ruscus aculeatus rot extract vitis vinifera leal f extract bioflavonoids maltodextrin caffeine carbomer disiloxane poliacrilamide c13 14 isoparaffin lauret 7 sodium idroxide fenoxietanol etilexilglicerin fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato ciao